Quasi in chiusura la consueta rubrica gente che vota, conosci gli italiani il cui voto alle urne vale quanto il tuo. Questa settimana c'è solo la posizione numero uno, tutti gli altri si sono ritirati perché non c'è gara. E proprio alla posizione numero uno c'è Angelo Cofone, candidato della democrazia cristiana ad Acre, Cosenza, con la frase i problemi che ci affliggono giorno per giorno come i due depuratori che abbiamo a Serricella, che vengono riversate tutte su... vi ripeto tutto. Buonasera a tutti e benvenuti, i problemi che ci affliggono giorno per giorno come i due depuratori che abbiamo a Serricella che vengono riversate tutte su... ...segno che ho tolto. Bene, faccite l'applauso come dice l'amico Angelo Cofone, per lui pensate 258 voti alle comunali e per quelli come me che hanno spostato la residenza ad Acre apposta per votarlo la gioia di sostenere la nuova democrazia cristiana calabrese. Grazie. Grazie.